Tra le conseguenze del caldo eccessivo ci sono purtroppo anche malori talvolta fatali per chi lavora sotto il sole come i lavoratori del settore agricolo. Per cercare di evitare tali situazioni, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha recentemente emanato un'ordinanza che vieta il lavoro nei campi dalle 12.30 alle 16 fino al 31 agosto. Una decisione accolta con favore da Confagricoltura. Sicuramente non ci sono aziende agricole che possono contestare questo periodo di decisione anche perché tutti vediamo quello che succede e tutti vediamo il caldo che c'è a quelle ore della giornata. Tra l'altro nel Salento la tradizione dei lavori agricoli fatti in questo periodo prevedeva già da tempo l'utilizzazione di un orario di lavoro ridotto. Confagricoltura pone invece l'attenzione su un altro importante problema. Il problema è collegato invece a questo tipo di colture che si stanno facendo in questo momento, ad esempio pomodori, anguri eccetera, è collegato essenzialmente con la collocazione sul mercato dei prodotti stessi. Del fatto che bisogna caricare i camion perché questi poi li portino ai mercati di destinazione li mette un po' in difficoltà. Non si può immaginare di far lavorare a 40 gradi all'ombra qualsiasi lavoratore. Bisogna capire meglio come fare ad aiutare chi deve collocare il prodotto sul mercato per fare in modo che il prodotto non depilisca. Che cosa si potrebbe fare secondo voi direttore? Ampliare gli orari di ricevimento dei mercati e fare in modo che se uno arriva dopo due ore non deve aspettare il giorno dopo per consegnare.